Nella saletta di Luxury, tutta tempestata di diffusori Estelon ed elettroniche Pilium, in esposizione statica c'erano anche i nuovi diffusori francesi di Revival Audio, il Bookshelf a due vie con un woofer da 18 cm Atalante 3 e il più grande Atalante 5, un tre vie con mida cupola e woofer da 25 cm. La sera di sabato, appena dopo l'ora di chiusura, ho chiesto ad Alfredo e al suo team di poter ascoltare entrambi i diffusori, una richiesta quasi scherzosa perché sappiamo benissimo qual è lo stato fisico e mentale degli operatori al termine di una lunga giornata di dimostrazioni. E invece la sorpresa. Wow, che setup! Esatto, è perfetto per il diffusore! Ma scoppiano! Vabbè! Quello è terribile, guarda! Lo fa apposta, lo fa! Stupiscimi, Alfredo! Certo! Vediamo! Se non esplodono, trovate! Hai capito? Ma sei terribile! Cioè, nuove, senza rodaggio! No, 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 vabbè, sì, aperte ieri, eh! Sì, o la terza, metti ieri! Sì, o il primo artesino! Adesso, quattro secondi che abbiamo rodate! Sì, oh! Sì, vabbè, stanno un po'... Sì, vabbè, stanno un po'... No, ci avviciniamo noi Eh, è vero, eh Sempre lui, guarda Eh, hai visto che fa questo? È un pelicolo Stavo me, cazzo, non cazzo Quindi, dopo ieri sera ti sei un po' rinfrancato? Dopo ieri sera ci siamo rinfrancato, sì, colpa tua, colpa tua, le abbiamo montate Sempre colpa tua Sì, vabbè un po' rinfora